Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova live reaction, stasera Milan Benevento, questa intro la sto registrando ovviamente prima di andare in diretta, mi raccomando, link in descrizione per il canale Twitch dove andremo a reagire a tutte le partite del Milan insieme, quindi presenza massiccia mi raccomando e inoltre sono anche qua per ringraziarvi per il raggiungimento dell'affiliazione che è un obiettivo molto importante per la nostra crescita su Twitch, per chi non sapesse cosa fosse sostanzialmente venite su Twitch, ci sono tutte le informazioni e poi lì ne possiamo parlare bene Tornando alla partita, stasera Milan Benevento, partita sulla carta molto complicata anche perché il Benevento, zona retrocessione, deve lottare per provare a salvarsi e noi invece dobbiamo vincere anche in vista dello prossimo scontro che è una finale Milan-Juventus che ovviamente faremo la reaction in diretta e lì ragazzi vi voglio veramente 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 in tanti, quindi passate dal link qui sotto in descrizione per il canale Twitch E niente ragazzi, se il video vi dovesse piacere mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi anche qua al canale su YouTube, non mi resta altro che augurarvi una buona visione del video e vi aspetto su Twitch Ripeto le informazioni ragazzi, Donnarumma, Tornandez, Romagnoli, Tomori, Dalot, Benasser, che sì, Leao, Cialanoglus, Alemakers, Ibrahimovic Ah giochiamo a... ah no, 4-2-3-1 e loro 4-3-2-1, ok Montipò, Caldirola, Glick, De Paoli, Barba, Ionita, Viola, Dabo, Iago Falche, in prota, Lapadula Sta per iniziare la partita, parte il Benevento, il solito attacco a San Siro, il Milan attacca sotto la curva nord, mentre Benevento attaccherà sotto la curva sud E si inizia ragazzi, buon Mila Benevento a tutti quanti Palla per Z, centrocampo, Teo Hernandez, che sì, bella combinazione tra Chessi e Ciala, attenzione, Cialanoglu, allarga presa le Makers, dentro per Chessi, velo Cialanoglu A canne Cialanoglu Mamma mia, oh, e questo è giocar bene E questo è giocar bene, ragazzi Mamma mia, che bella combinazione, che bella azione Tutto parte a centrocampo, che sì, palla per Cialanoglu, Cialanoglu si accentra, la gioca a Rafa E a Rafa A Sale Makers, a Sale Makers la gioca a Chessi, che si fa il velo E dietro c'è Akkan, che da solo contro Montipò la mette Ed è 1-0 per i ragazzi al sesto minuto, bellissima combinazione, andiamo avanti, dai, dai Ok, Cialanoglu, Ciala, filtrante per Leao, che l'appoggia a Teo, Teo ancora Cialanoglu Ciala, filtrante per Ibra, Ibra rientra, Ibra la gioca a Leao, Leao per Sale Makers, sale il tiro Montipò Ibra, palla che rimane lì Ibra, Ibra il tiro, para Montipò Altra bellissima combinazione, anche qua i ragazzi avrebbero meritato il gol Cialanoglu, palla per Ibra, Ibra la tocca a Leao, Leao si gira, palla per Sale Makers, il tiro Para Montipò, palla che resta lì, Ibra Imovic, poi calcia, però troppo debole E Montipò para, però qua brutta palla persa Fuori dall'aria provano il tiro, Donnarumma para, calcio d'angolo Benevento, occhio Giugno 2023, no 2022, frea, non 2023 Calcio d'angolo Benevento Al quindicesimo minuto Attenzione, palla dentro sul secondo palo, alta Palla che riescono a toccarla, può ripartire il Milan, Ben Nasser, palla per Ciala Ciala di prima, attenzione, ripartiamo in contropiede 3 contro 2, che sì, 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 che sì Palla per Leao, Leao, Montipò para, Ibra, palla che resta lì Ibra ancora in aria Non ci credo, ma dai, ma dai, cosa si è mangiato ancora Leao? Si è vicini al 2-0, con un ottimo contropiede Bravissimo che sia, aspettare fino all'ultimo, a giocarla A Leao, Leao in aria, provato a calciare a giro, ma purtroppo la calciata centrale Ben Nasser, sciabolata dentro l'aria per Ibra, ma palla troppo corta Respingono, palla ancora nostra, Dalot, cambia fascia, bella per Teo Attenzione, Teo, Teo, Teo in aria Teo si coordina il tiro, Montipò Calcio d'angolo Grande tiro di Ternando, c'è grandissima parata di Montipò Teo in aria, la controlla, fa la finta di giocare a Cialanoglu Difensore che va, che corre dietro, c'ha l'attenzione Calcio d'angolo battuto subito, palla dentro Ben Nasser, ultimo minuto di recupero di questo primo tempo Dalot, palla lunga, bel lancio per Salemakers Esce Montipò, palla per lui Niente da fare, bel lancio comunque Montipò, la gioca qua larga 40 secondi al termine di questo primo tempo, risultato 1-0 Bella da bocche, sbaglia passaggio, c'è che sì che intercetta tutto Che sì, palla in fondo per Ibra, Ibra, Ibra al tiro, Montipò Parra! Calcio d'angolo, Milan No ragazzi, no, sbagliare sti gol qua, no, no ragazzi, sbagliare sti gol qua, no, 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 no Bravo Montipò, rimanere in piedi fino all'ultimo, ma Ibra da lì meglio, Ibra da lì meglio Eri completamente da solo, da lì meglio, poteva far qualsiasi cosa Calcio d'angolo, Milan Contro la Juve sti gol qua, non possiamo sbagliarli Ciala Batte, palla sul primo palo Che si di testa, la spizza fuori dall'aria Salemekers prova il tiro di prima Niente da fare E finisce qua al primo tempo ragazzi Milan 1, Benevento 0 Gol di Cialanoglu al sesto minuto Però c'è da dire male Male per determinate occasioni Poi per il resto bene, per carità scusate Mi sono espresso male Male per le occasioni lì davanti Potevamo già essere 2-3-0 Abbiamo sbagliato troppo, troppo Contro la Juve ste robe qua si pagano Comunque Per il gioco comunque è bene così Cambio confermato Ismael Ben Nasser Out Entra Sandro Tonali Già dal primo minuto di questo secondo tempo Stiamo per ricominciare E si ricomincia Si ricomincia col secondo tempo Dalot Prova il cross in mezzo sul secondo palo Anticipato Ibra Palla che resta lì Attenzione Cialanoglu Palla per Ibra Ibra il tiro Montipò Era buona la posizione Calcio d'angolo Milan Era buonissima la posizione Porca miseria Parata di Montipò Calcio d'angolo Inizio al secondo tempo Come si è chiuso il primo Io mi dissocio Mi dissocio da quello che ha appena scritto Fra le A a sinistra Più vivo del solito però È quello Matte Non so se è un ca... Ma non è fallo? Attenzione fuori dall'aria Provano il tiro! Oh madonna Benevento vicino al gol Dell'1 a 1 Con Iago Falke Bel tiro da fuori aria Palla che esce di poco Ma Boh Secondo me lì era fallo Deve tornare da Gigio Ah Gigio Rinvio lungo Bella palla per Dalot Dalot ha spazio Può correre Contro piede Milan Attenzione Dalot C'è l'inserimento Dall'altra parte Dalot Bravissimo Bella palla per Ciala Ciala in aria Controlla Ciala il tiro Palla fuori L'avevo vista dentro Cosa ha sbagliato Ci stiamo mangiando Troppi gol Basta Palla per Ciala Ciala Palla fuori Palla dentro l'aria Bell'1-2 Ibra 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 Palla parata di Montipo Parata di Montipo Chiedono un calcio di rigore I ragazzi del Milan Che bella azione Che sì Palla per Cialanoglu Ciala dentro per Ibra Che la lunga sale Imecler sale di prima Per Ibraimovic Ibra fa tunnel Col tacco a Glick Poi calcia in porta E Montipo Parra ancora Qua nulla da dire Azione super Il rigore qua Non c'è assolutamente Comunque Bellissima azione Però da lì Non c'è nulla da dire Super Montipo Palla per Teo Teo Il tiro Montipo para Teo Hernández Forse fuorigioco Intanto danno gol Teo Hernández 2-0 Ma forse fuorigioco Secondo me fuorigioco Vediamo 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 Montipo aveva fatto un'altra Delle sue parate Su Ibraimovic Poi sul tapin Sapete che forse Non è fuorigioco Sapete che forse Non è fuorigioco Vediamo Convalidato il gol Vamos Vamos E con sto VAR Non si sa mai niente 2-0 per i ragazzi Gol di Teo Hernández Mancano 20 secondi al termine Ragazzi Buona prestazione Dalla parte dei ragazzi Sinceramente Signori E finisce qua Milan 2 Benevento Sio Sio